Musica Amici di Benacusti V No, non siamo in un acquario ma ci troviamo nel passaggio pedonale sottostante la rotonda di Bardolino e come potete vedere è completamente allagata e causa i temporali di questi giorni che hanno creato una serie di disagi fra cui anche l'allagamento di questo sottopassaggio Speriamo che smetta di piovere Benacusti V, Dino Sebastian Mi butto? Non mi butto, mi butto, no, mi butto, sarà freddo, non mi butto Grazie a tutti Grazie a tutti